Dio quanto mi manca il cinema. Infatti, credo di non essere rimasta mai così tanto tempo senza andare al cinema. L'ultimo film che ho visto dentro una sala cinematografica è stato lo scorso anno, Jojo Rabbit. L'ultimo film che invece ho visto però era all'aperto, è stato L'agnello, alla manifattura tabacchi di Cagliari. Mi manca tantissimo. Io sono abituata ad andare al cinema molto di frequente. Andare al cinema è sempre stata una delle mie passioni. Fino a quando ero ragazzina. Mi ricordo certe domeniche, certi giorni festivi, che io trascorrevo chiusa dentro uno dei cinema della città, i cinema alternativi, i cineforum. Siccome già da ragazzina avevo dei gusti abbastanza pallosi per quanto riguarda i film, non trovavo spesso persone disposte ad accompagnarmi. Così, fin da ragazzina, ho sviluppato questa abitudine di andare al cinema da sola. E poi col tempo ho cominciato a godere di questa abitudine perché mi lasciava il tempo per pensare, per riflettere. Comunque non mi è mai importato. Non l'ho mai vissuta come una punizione all'andare al cinema da sola, anzi una gioia. Ricordo che uno dei film che cercai di vedere da ragazzina, avevo probabilmente 15 anni, o forse 14, no, forse 15, era ad uno dei cinema parrocchiali, che però non era un cinema parrocchiale, era gestito da un prete, però faceva vedere film tutt'altro che parrocchiali. era il cinema San Michele, per chi conosce Cagliari sa di cosa sto parlando, il vecchio cinema San Michele di Guidubaldi. E ricordo che un pomeriggio di questi, un pomeriggio di domenica, io andai e cercai di intrufolarmi per vedere un film di Antonioni, Michelangelo Antonioni, e il film era Il deserto di Zabrisky Point. Non sapevo assolutamente niente del film, avevo sentito parlare di Antonioni, però sapevo che era un film che volevo assolutamente vedere. E arrivata lì al botteghino, non mi fecero entrare perché era un film vietato ai minori. Ora, non ricordo se fossi vietato ai minori di 18 anni, ma non credo, probabilmente era vietato ai minori di 16 anni, e a me mancavano un paio di mesi, o qualcosa del genere, ero quasi lì lì per avere l'età giusta per vederlo, però mi mandarono via e non me lo fecero vedere. Mi presi la rivincita andandola a vedere quando poi raggiunsi l'età giusta. Hanno riaperto i musei, speriamo adesso riaprano i cinema e i teatri.